Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una nuova rimonta anticiclonica è alle porte. A partire dalle regioni tirreniche italiane sarà in estensione a tutti gli altri settori. Si ritornerà così a fare i conti con valori termici roventi nelle ore centrali del giorno a partire da oggi e per tutto il prossimo weekend. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 28 luglio. Dopo l'instabilità dei giorni scorsi ritornano i cieli soleggiati su gran parte del territorio. Nuvolosità occasionale potrà presentarsi nel pomeriggio sulle zone interne lucane ma altrove continuerà a splendere il sole per il resto della giornata. Temperature in ulteriore aumento con clima che inizia ad essere nuovamente affoso lungo le coste. Valori massimi che si attesteranno tra i 30-31 gradi dell'Eccese e i 34-35 del Foggiano. Il maestrale insisterà solamente sull'estremo Salento. Altrove invece i venti si disporranno da nord ma con debole intensità. E per quanto riguarda i mari, mosso il canale d'Otranto, da poco mosso a calmo l'Adriatico e lo Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Salvatore Marcucci per questa spettacolare panoramica sulla bellissima Torre Lapillo in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovra impressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.